È stata un'esperienza importante quella di raccontare e di trasmettere la propria esperienza ad altre persone che si accingono a lavorare sulle tematiche dell'interculturalità o semplicemente vogliono approfondire modalità e forme per gestire e utilizzare i patrimoni e i beni culturali come veicolo di messaggi di dialogo interculturale e in un contesto molto culturale come ormai sono le nostre società contemporanee il museo in particolare come depositario di patrimoni è chiamato ad assolvere ad un ruolo completamente differente non è più il tradizionale conservatore di collezioni e di patrimoni ma deve muoversi in modalità differenti al di fuori di esso avendo un'attenzione ad un'accessibilità e ad un'accoglienza e ad una interpretazione delle proprie collezioni in maniera totalmente nuova è per questo che sono apprezzate ancora di più le esperienze come ArtClicks in cui si vogliono dare formazione a delle professionalità che lavorano in questo campo di mediazione fra patrimoni, culture e intercultura